Una giornata importante per la salute dell'uomo, una giornata che mi ha chiesto di riflettere un attimo su quello che sta accadendo. Sta accadendo che noi portiamo l'onore come ricercatori che ci occupiamo, io sono endocrinologa ma sono tra gli opinion leader per la dieta mediterranea, di rapportare la dieta mediterranea alla salute dell'individuo, in particolare alla salute dell'uomo. Sicuramente il mangiare sano, il mangiare un'alimentazione che poi è legata alla nostra tradizione mediterranea può regalare qualità agli anni che abbiamo aggiunto alla vita. Io ho ideato un nuovo piatto, il piatto mediterraneo, che serve proprio a riportare la piramide alimentare di cui stiamo dimenticando tutta l'organizzazione nel piatto, un'icona con cui ci rapportiamo quotidianamente. Perché? Perché la dieta mediterranea attraverso il piatto mediterraneo può regalarci salute. E' dimostrato dalla scienza e questo ha una ricaduta importante sul vissuto della coppia nell'intera pienezza perché quando c'è salute dalla parte maschila questa ricade poi sulla famiglia e sul benessere di tutti. Credo che sia fondamentale per noi ricercatori, per noi medici, porre la nostra attenzione sul legame che c'è tra la tavola e la salute dell'individuo, la salute dell'uomo. Perché molte patologie, vedi la disfunzione rettile, potrebbero essere già con un intervento legato allo stile di vita vedi la dieta mediterranea, l'hanno dimostrato anche i nostri studi, diventare un momento non solo terapeutico ma richiamare l'attenzione su problematiche così importanti che possono avere poi ricadute sulla salute cardiovascolare e quant'altro. Allora la tavola come campanello importante di allarme vissuta per regalare salute e piacere. Quindi tutto questo, se noi riusciamo a metterlo in evidenza sul sociale, creerà molti anni di benessere a persone a cui noi abbiamo aggiunto anni di vita perché oggi la medicina ci ha permesso di essere longevi, però per esserlo dobbiamo non solo mangiare sano per raggiungere gli anni ma dobbiamo mangiare bene in maniera tale che possiamo prevenire patologie che hanno un common soil, un killer che non è neanche più silente che si chiama purtroppo ancora oggi patologia cardiovascolare, patologia neoplastica, patologie legate alla neurodegenerazione e il common soil rimane proprio questa non sana alimentazione, che noi definiamo spesso non corretta alimentazione e sedentarietà, il connubio tra questi due momenti diventa molto pericoloso perché purtroppo non ci regala la salute. Allora oggi facendo gli auguri di buona salute a tutti quanti gli uomini, così staremo meglio anche poi noi donne, sicuramente dobbiamo fare un augurio di salute. L'augurio di salute è riportatevi alla dieta mediterranea, al piatto mediterraneo che io ho organizzato perché lì andando a fare attenzione alla scelta e alle proporzioni tra le varie tipologie di alimenti che noi scegliamo possiamo realmente aggiungere qualità alla nostra vita. Grazie.